Abbiamo raccolto testimonianze, paesaggi e emozioni per invitarvi ad un percorso lento e consapevole alla scoperta della Sicilia nascosta. La pasta alle Montisicani si realizza con un impasto di farina di grano duro, acqua e uova. Le proporzioni sono di 10 uova per un chilo di farina. Impastiamo, aggiungiamo un pizzico di sale e quando è ben lavorata diciamo che l'impasto è pronto per essere steso. Dopo aver steso l'impasto e realizzato la foglia, l'avvolgiamo e andiamo a tagliare la sfoglia diciamo dalle dimensioni desiderate in base al tipo di pasta che vogliamo realizzare. In questo caso andiamo a tagliare dai tagliolini. Il tagliolino va versato nell'acqua bollente ed è cotta nel momento in cui sale a galla. A completare i tagliolini che abbiamo fatto in casa, le nostre favette aggiungiamo la nostra immancabile ricotta di pecora che è una assoluta goduria per il nostro palato. Buon appetito!